Buonasera ragazzone e ragazzuale, come state? Spero tutto bene. Paola, sì, questo video è per te, così la smetti di rompermi le palle, scusate ma dovevo dirlo, non la sopporto più, sono tre giorni in continuo a chiedermi questo video. Ecco, adesso ti ho citata, sei contenta? Adesso puoi anche cambiare, perché tanto lo so che tu guardi soltanto un pezzo dei miei video, poi non li guardi fino in fondo. E almeno questo arriva fino alla fine, dai, per favore. Comunque, dopo questa mini introduzione, dedicata a questa amica appunto, a Paolina, che è venuta con me al cinema sabato, insieme anche alla Sereno e alla Rigo, partiamo con questa recensione che tanto non riuscirò a farla, me lo sento dentro, perché in realtà non è che abbia tantissimo da dire su questo film che ho visto, cioè la prossima volta faccio venire la parola e lo faccio raccontare da lei, perché lei è sicuramente più esperta di me. Il film che sono andata a vedere sabato è Rullo di Tamburi, American Pie, Ancora Insieme, che è il quarto film dedicato appunto a questa saga cinematografica, quarto con il cast originale, perché in realtà poi ci sono stati degli spin-off che io non ho mai visto. E in realtà ammetto candidamente che io gli American Pie li ho iniziati a vedere circa due settimane fa, cioè sono proprio una novellina, no? Anche perché il primo in realtà è uscito nel lontano 99, ma io non l'ho mai visto, cioè fino a due settimane fa. Il secondo è uscito nel 2001, il terzo è uscito nel 2003, adesso a distanza di quasi dieci anni appunto è uscito il quarto. Vi dico che non l'ho mai visto, perché in realtà ho sempre pensato che fosse un film abbastanza bulgarotto, come tipo di comicità, ecco. Per cui mi sono sempre abbastanza rifiutata di vederla, nonostante la Paola fosse una grande fan, nonostante anche mio fratello sia un grandissimo fan. Dopo alla fine mi sono fatta convincere da lei, per cui ce li siamo guardati qua a casa mia, il primo e il secondo. Il terzo invece l'ho visto a tocchi, perché purtroppo la Serena si è ciullata al DVD e non me l'ha mai riprestato, e di conseguenza l'ho visto a pezzi scaricato dall'internet. Detto questo, di cosa parla American Pie in generale e in particolare questo ultimo film? La saga di American Pie è dedicata a questi personaggi, questi ragazzi nel primo film e nell'ultimo, beh, sono ovviamente adulti. Il primo film è ambientato durante l'ultimo anno del liceo, di questo gruppo di amici maschi, che sono Jim, Kevin, Paul Finch, detto pausa merda, e Oz, più Stifler, il mitico Stifler, che in realtà non è che esattamente faccia parte del gruppo di amici, perché cercano di evitarlo in tutte le maniere, perché è una persona abbastanza imbarazzante. Più, vabbè, tutta ovviamente un'altra serie di personaggi, che sono, non so, il papà di Jim, che è quello che dà consigli di natura sessuale senza che siano richiesti, la mitica mamma di Stifler, più le varie ovviamente le ragazze, per cui c'è Michelle, che è questa ragazza che suona nella banda, Heather, che canta nel coro, di cui si innamorerà Oz, e Vicky, che invece è la fidanzatina di Kevin. Il primo film American Pie è dedicato, diciamo, al fatto che questi personaggi fanno una specie di scommessa, per cui entro la fine dell'anno devono perdere tutti la verginità. Il secondo film è ambientato durante le vacanze, dopo il primo anno di college, il terzo, invece, è il protagonista del film, è il matrimonio di Jim e Michelle. Nel quarto film, che è ambientato più o meno dieci anni dopo, ritroviamo questi protagonisti, i più vecchi, chiaramente, in teoria più maturi, anche se non tutti quanti. In particolare, non so, Jim e Michelle hanno un figlio, sono sposati, appunto, sono sposati nel capitolo precedente. Oz vive con questa sua strafighissima fidanzata e fa il conduttore di un programma sportivo. Kevin fa il casalingo, più o meno, cioè guarda tutti i programmi in televisione, cucina, è fan di Gossip Girl. Dio, che tristezza. Poi c'è Pausa Merda, che è invece quello che ha girato il mondo. Ovviamente c'è Stifler, che in realtà è Stifler, cioè fondamentalmente è rimasto lo stesso. Cioè, in realtà fa lo schiavetto di questo capo ufficio, che manda tranquillamente a fare in culo, così, senza problemi. Però è sempre Stifler, chiaramente. Questo gruppo si riunisce per andare a questa festa dei laureati, dei diplomati del 99, per cui si ritrovano tutti nella loro città di origine. Stifler ovviamente non viene invitato, ma in realtà alla fine anche lui si aggrega al gruppo e ovviamente gliene capitanano di tutti i colori, però chiaramente poi tutto si risolve, tutti amici come prima. Allora, il film è divertente, senza ombra di dubbio. Devo dire che tra tutti non è quello che mi è piaciuto di più, mi erano piaciuti di più i primi. Però vabbè, questo chiaramente succede a tanti film comici. Per esempio, Una notte da leoni, il primo era fenomenale, il secondo era molto divertente, faceva molto ridere, ma il primo, diciamo che la trovata originale ce l'aveva il primo. Quali sono i pro e i contro, diciamo, di questo film? Cioè le cose che mi sono piaciute e le cose che non mi sono tanto piaciute? Mi è piaciuto il fatto che i sceneggiatori, i registi, i creatori no, perché in realtà non, i due creatori, anzi siano tre creatori della saga di American Pie, anche se i più famosi sono due, che sono Paul e Chris Vines, che sono anche due registi. Non mi chiedete quale dei due ha diretto New Moon, cioè il secondo di Twilight, aiuto. Uno dei due, insieme hanno anche diretto e sceneggiato About a Boy, quello con Hugh Grant tratto dal romanzo di Corby. Comunque hanno lavorato, uno dei due ha fatto la bussola d'oro, penso sempre quello di New Moon. Penso sia Chris, però non sono sicura al 100%. Detto questo, comunque, loro due erano i creatori, insieme a un'altra persona, di cui adesso mi sfugge il nome, della saga di American Pie, dei personaggi. Qui invece ci sono altri sceneggiatori e altri registi, per cui cambia un po' tutto, diciamo, il cast produttivo, la crew, ecco. Mentre il cast fisico di personaggi sono sempre quelli, chiaramente gli attori sono rimasti. La cosa che mi è piaciuto è il fatto che appunto gli sceneggiatori abbiano saputo dosare le scene più prettamente da slapstick comedy, cioè proprio la scena fisica che fa ridere, con le battute. Io di solito preferisco le battute, che è proprio la scenetta divertente, perché la scenetta divertente di solito per far ridere scade un attimino nella banalità e nella volgarità, spesso e volentieri. Infatti succede anche in questo film. Ma in realtà è proprio tutta, come dire, tutta la saga che è concepita su un tipo di risate più dirette su questa cosa. Nel senso che non vi aspettate le commedie adolescenziali barra liceali degli anni Ottanta, in cui le battute volgari non c'erano, ma si rideva più per altre cose. Qua è tutto un altro tipo di comicità. In un certo senso si può dire che American Pie ha un po' lanciato il filone delle commedie liceali, perché non credo che ce ne fossero fatte in questo modo prima di American Pie. Poi invece ne sono sbucate fuori come funghi di tutti i tipi. Io non essendo mai stata una grande fan non ve le so neanche citare, perché io non avendo mai visto praticamente American Pie fino appunto due settimane fa ne ho anche visto dirle altre. le vedo ogni tanto in televisione che girano. Tipo, deve esserci qualcosa che si chiama My High College, credo. Ma la Paola le sa tutte, per cui se magari mi scrive un commento sotto e me le nomina, forse facciamo prima. Vero Paolina? Brava, che tu le guardi tutte queste cose. Comunque, detto questo, mi è piaciuta molto questa cosa di saper dosare le battute e le scenette più divertenti. Mi piacciono di più le battute, semplicemente perché in questo film facevano riferimento anche a delle cose successe magari nei film precedenti. E poi quasi tutte comunque le battute si basano su... Non le battute, scusate, le scenette comiche si basano molto di più su Stifler. Perché Stifler nel primi film, primo e secondo, più primo ecco, non era presentissimo, forse perché non si era ancora intuito il suo potenziale comico. Mentre nel secondo e nel terzo, soprattutto in questo, Stifler è praticamente uno dei... entra proprio in diritto uno dei protagonisti, diventa. Ed è infatti il protagonista di quasi tutte le scene comiche perché fondamentalmente Stifler è rimasto appunto lo Stifmeister, per cui non è cresciuto molto, per cui è quello più immaturo, quello che fa le cose più idiote. Tipo a un certo punto si vuole vendicare di questi ragazzini che hanno fatto un dispetto cretino. Lui decide che si vuole vendicare e fa delle cose pessime. C'è da dire che la Paula si è quasi ribaltata giù dalla sedia guardando questa scena, che effettivamente era divertente. Mi è piaciuto un pochino di meno, proprio come scena in sé, tutta questa parte in cui Jim deve riportare a casa Cara. Cara è questa ragazza a cui lui faceva la babysitter quando lei era una bambina. Lui faceva da babysitter a lei. Lui deve riportarla a casa, questa è ubriaca, Marcia. Ci ha provato palesemente con lui, spogliandosi in macchina e via dicendo. Lui cerca di non farsi sgammare dai genitori di lei mentre la porta in camera e c'è tutta questa scena lunghissima che io l'ho trovata divertente a tratti. Forse è un po' troppo lunga o forse è il tipo di comicità che non mi diverte tantissimo. Mi ha molto di più divertito quando questi ragazzi vanno da Stifler che il giorno di questa festa del ritrovo dei liceali del 99 lui si trova in ufficio a lavorare perché il capo l'ha messo in ufficio. Tutti i suoi amici vanno appunto da lui e con lui gli chiede come facevate sapere che ero qui e loro gli dicono eh abbiamo chiamato tua madre e gliel'abbiamo chiesto e lui guarda è incazzatissimo pausa merda. A me questa cosa ha fatto ridere tantissimo poi ovviamente se uno ha guardato i film prima capisce per quale motivo lui ce l'ha così tanto con pausa merda. Sono belli i riferimenti ai film precedenti per cui dovete averli visti per forza per vedere questo film è fantastico un espediente che hanno utilizzato alla fine cioè hanno inserito un personaggio che non c'era nei film precedenti è proprio un personaggio ex novo e cioè l'ho trovato originale nel senso che è una cosa che potevano utilizzare benissimo anche negli altri film quelli prima e tre prima in realtà l'ha tirata fuori soltanto adesso cioè al posto di utilizzare un come dire un espediente che avevano utilizzato nei tre film precedenti c'è l'incontro tra due personaggi che io non vi dico perché se non li avete visti non ve lo posso dire in questo film hanno tirato fuori un altro personaggio sempre legato in un certo motivo a quegli altri due ovviamente chi ha visto il film penso che l'abbia capito cos'è questa cosa però vi pregherei di non spoilerarlo sotto perché magari qualcuno capito cioè non ha visto il film mi rivolgo a te Paolina se sei arrivata fino a 11 minuti e 24 di video non dirlo sotto chi è che salta fuori come personaggio perché se no ti cancello il commento e ti banno dal canale vabbè no ecco appunto il film è divertente è godibilissimo se avete visto i film precedenti non andate allo spettacolo delle 8, 8 e mezza, 9 perché è pieno di ragazzini ragazzini idioti che hanno fatto delle battute si sono riempite la bocca di parole che io per me non sapeva neanche quello che volevano dire comunque erano quelli che stavano seduti dietro il mio ovviamente questi qua chiaramente questi ragazzini dodicenni e niente cioè io penso che ovviamente chi di voi ha visto quelli precedenti abbia percepito un senso d'attesa maggiore rispetto a me nel senso che aspettare un film per così tanti anni e ritrovare dei personaggi comunque a cui magari eravate affezionati è sicuramente una cosa strafiga io questa cosa purtroppo non l'ho sentita tanto anzi per niente anche perché fino a un mese fa non volevo neanche andarlo a vedere questo film comunque sì cioè io ve la consiglio tutta la saga di American Pie pensate a una specie di una notte da leoni altro film che io non volevo vedere che ho trovato stra 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 divertente per me è una cosa strafiga ecco ho trovato una cosa in comune a questi due film cioè in American Pie c'è Stifler il cui ruolo diventa sempre più grande mano a mano che passano i film una notte da leoni è Alan praticamente che fa questa fine nel senso che Alan nel primo film c'è è vero ed è molto coglione però per esempio in una notte da leoni 2 è ancora più coglione cioè ha ancora più battute comiche ha ancora più tempi comici ha ancora più scene e la stessa cosa succede con Stifler per cui voi che adorate Stifler dovete andare a vedere questo film che effettivamente è figo tra l'altro anche l'attore è rimasto uguale invece gli altri si vede che sono invecchiati tantissimo bene questa recensione è straseria no ma in realtà non c'è tanto da dire non è un film che c'è da farci una gran critica intellettuale no mi sembra a parte dirvi che è divertente che ha delle battute carine delle scene molto divertenti se vi sono piaciute se vi è piaciuto comunque gli altri film precedenti questo non ve lo potete perdere sì pecca un pochino di volgarità in un paio di scene ma neanche esagerata nel senso che ho visto delle commedie decisamente più volgarie comunque compensa con alcune scene mitiche come appunto la fine con l'introduzione di questo personaggio e con i due ragazzi Milf che io amo sono meravigliosi quando si parlano nel linguaggio Milf anche quella è una delle scene più epiche di tutto il film per cui no andate a vederlo molto divertente Paolina spero che questa recensione ti abbia soddisfatta Paolina che mi ha molestata sessualmente dovevo dirlo questa cosa vabbè adesso lo sapete la Paola questa mia amica mi molesta sessualmente tutte le volte che andiamo al cinema e anche la Rigo quella che lo fa di meno è la Sereno la prossima volta mi siedo vicino a lei ho deciso comunque ragazze questa recensione la dite con voi fatemi sapere tutti voi altri se avete mai visto American Pie se vi sono piaciuti se invece mi hanno fatto schifo se andate a vedere questo film se l'avete già visto qualunque altra cosa e oh ragazzi ho fatto un video senza tagli è un miracolo bene la prossima recensione video qualunque altra cosa non so quando sarà ragazzi cosa vi sta succedendo che vi state iscrivendo in 8000 ultimamente mi sta cioè sono stra felice di questa cosa sono stra contenta ma io datemi il tempo di pensare a un video speciale 300 iscritti cioè non ce la posso fare siete toppatevi non vi iscrivete più no scherzo scrivetevi quanto volete anzi sono stra stra contenta no è che sono cioè sinceramente stupita e stra contenta di questa cosa perché cioè è passato pochissimo tempo che eravate 200 e adesso siete già a 250 qualcosa ed è tantissimo per me tantissimo vabbè siete meravigliosi vi adoro tutti quanti bene adesso finalmente vi saluto quasi quasi vado a mangiare perché sono tipo le 8 meno un quarto avrei anche un po' di fame e vi mando un bacio e vi auguro buona visione ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti